Senatore Mauro Sì, grazie. Signor Presidente, avendo appreso che è convocata la riunione dei capigruppo, peraltro in niente affatto singolare, ma probabilmente auspicata coincidenza con le richieste del senatore Zanda, ai fini di rendere i lavori di quella capigruppo ancora più sintetici e capaci di portarci a soluzioni equilibrate, vorrei dare un'informazione certa al senatore Zanda sul costo, cioè su quanto si spende perché tutti abbiano la documentazione. È molto semplice, senatore Zanda. Costa quanto costa la democrazia e quanto costa la libertà a fare queste cose. Questo è il prezzo, questo è quanto vale la nostra libertà e la nostra democrazia. E credo che sarebbe auspicabile che i lavori della capigruppo smentissero quello che vediamo accadere da questa mattina, cioè che ci sono dichiarazioni di esponenti del governo che annunciano già la ghigliottina, tagliando la possibilità di libertà di questo Parlamento, di garantire un percorso costituzionale di buonsenso, facendo a pezzi la libertà dello stesso Presidente del Senato. Questo è il prezzo della libertà e della democrazia, il costo che oggi anche il senatore Zanda conosce.